Andiamo sull'amore. Come si è svolto il suo matrimonio? Vicino di casa, piano piano, parlando, parlando, si è svolto l'amore. E poi ci siamo lasciati pure perdere per due, tre giorni. E poi Antonio mio è ritornato e ci abbiamo sposato a 17 anni un giorno. Vabbè, non è stato fatto un matrimonio come quelli di oggi, diciamo? Sì, 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 un vestito bianco, sì. Dove siete sposati? Arce, siamo sposati a Arce. In Italia, quindi, in Giosaria. In Italia, in Giosaria. Che anno era? 1900, oddio, non ricordo. Quindi, tanti anni fa, però, tanti anni fa. 86, mi sembra, no. 86? No, 86. È un mese prima, però. Prima, prima. E alla cerimonia chi c'erano? C'era mio suocero, mia suocera no, mia mamma no. C'era mio cognato, mia sorella, la Monica, la piccola e papà, basta. Perché come mai la mamma? Eh, come mai perché così andava. Cioè, era usanza? Era usanza, usanza sociaria. Cioè, che la mamma non andava al matrimonio? No, no. E come mai? Così, era così? Come mai? Questo non lo so. Poi, al pranzo dove siete andati? A Roma. Eh, un viaggio. A Roma, siamo andati in viaggio. E come le è sembrata Roma? Eh, Roma è bella. Eh, ma c'era stata pure prima, però. Vi hanno accolto da sposi a Roma? Sì, 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 sì. Sì. Siamo andati in macchina, siamo andati. Siamo andati in macchina, mio zio. Siamo stati tre giorni a Roma e poi ci abbiamo ritornato. E poi? Eh, poi dopo due mesi sono rimasta incinta, fatti in culo. Grazie.